col cavolo sai quanto me che non puoi allungarti così tanto è un albero alto molto più alto di brutte facciare il ratto sarebbe più facile no non è vero e se si rompe una gamba che ne resterebbero tre nessuno lanciarò sì sì sto bene lasciamo stare che problema hai e bicipiti voleva lanciarmi giù da un burrone stai esagerando non ti ho lanciato perché quill ti ha fermato allora il problema non sussiste ti tengo d'occhio alla piano psicopatico no Grazie. Dite che queste sono statue dei mostri del pianeta? Sono di pietra. Grazie, genio. Dico che forse è per questo che Vendera ama i mostri. L'ennesima fanatica svitata. Le viti non c'entrano. È una conquistatrice. Forse vengono dai popoli che ha conquistato. Ciao! Che ci fa della roba dei chitauri su una roccia dimenticata come questa? Forse Lady Elbender ha respinto uno sciame e questo è parte del bottino. Forse. O forse lei e le blatte erano amiconi. Ridicolo. Il ponte non è l'unica cosa dei chitauri. Alcune statue hanno un'aria familiare. Non so se mi spiego. Questi cerebrolesi adorano i mostri. Hanno preso le blatte spaziali per delle divinità. Schernisci i secnarfiani pur non conoscendone i costumi. So che chi scolpisce degli idoli poi li adora. E so che chi ha un po' di cervello non adora niente. No. No. Statue non ci guardano. Non esserne certo. Wow! Che buio qui! Se spatti contro un mostro, dicelo! Pianeta di mostri! Giusto! Ehi, io non stavo, ragazzi! Tutto quello che faccio è ragionato e... Eroi! Ehi! Perchare! 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 Grazie a tutti Ehi! Ci sono altre rovine qui sotto! Ah! Potremmo fabbricare una catapulta! Nessuno lancia rocket! Ma forse c'è qualcos'altro qua giù? Rax, questo riesci a farlo cadere? Esatto! Potrei averli innervositi! Scusa? Ci danno la caccia! Ottimo! Davvero? Bene! Occhio a non cadere! Incoraggi così? Luogo ideale per una scultura! Fermi! Lo sentite? Ragazzi, occhio! Attenzione! Quei cosi hanno la mia vita! Chiudi e le vanno! Concentriamoci! Vedete a me mancano già questi stradunzini! Oh, finito! Giungo a salvarti, Peter Quill! Oh, finito! Potremmo cavalcarle per volare da Lady Alpenter! Eh, buona fortuna! Ehi! Mi siete accorti che questo posto sembrò un cimitero? Sto cercando di non diventarne parte! Affronterò tutti i monstri di Lady Alpenter! Vedi di sfogarli prima di arrivare! Allora, vedi di schiatticarli! È il mio favore, Quill! Questa volta non andrò verso la luce, ciccio! Sapete, a me mancano già quegli strani budini! Sono più che sicura che li rivedrai! Potremmo cavalcarle per volare da Lady Alpenter! Ah! Non dico che ci sia l'alto, va! Il segreto è sconfiggere prima che loro sconfiggerebbe! Ehi! Mi siete accorti che questo posto sembrò un cimitero? Trovo quindi giusto disseminarlo di cadastro! Occhio! Occhi sull'obiettivo, Pister! Alla scelta, Pister! Quei cosi hanno avuto il vestito! Non c'è l'età! Concentriamoci! Ehi, vi siete accorti che questo posto sembrò un cilitero? Sto cercando di non diventarlo facile! Passati via, Rapper! Non vale, loro volano! Vediamo se volano anche da noi! Affronterò tutti i mostri di Lady Rapper! Ricarda che uno di quei mostri è il momento di colpire! Occhia ai punti piani! Meglio di un insetto, c'è solo un insetto a volante! State pronti! Non hai alcuna speranza! Non si sarebbero tornati utili di un secondo fa! Beh, sempre meglio dell'idea di Drac! Sapete, a me mancano già quegli strani budini! Sono più che sicura che li vedrai! Ehi, Quill! Vuoi un po' di cuochi d'artificio? Una battaglia soddisfacente! Ehi, vi siete accorti che questo posto sembrò un cilitero? Hai davvero il tempo per potermi il panorama? Resistente! Non è la forza! Ok, non è la... Non vale, loro volano! Vediamo se volano anche da noi! Occhia ai punti piani! Pettagli l'insetto, c'è solo un insetto a volante! Fai tranquill! Lascia che li distrugga! tempo scaduto dovremmo cavalcarle per volare da lei di albergo eh, con la fortuna basta con queste creature inferiori datemi un moto no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no non sei tu il più grande esperto di Lady Albender l'opuscolo non diceva niente sull'istante il no, 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 no Drax, io... Non sei pronto per i mostri che attendono oltre le fronde Ha ragione Rocket, riesci a infilarti per vedere se il sentiero continua di là? Quanto mi paghi? 50 unità? I soldi più facili di sempre Non le ha 50 unità E tu di lì non ci passi Groot, tu sei bravo con i rami, no? Io sono Groot Dice che ha già chiesto e non sanno la strada Ok, Gamora, scommetto che si va di qua 50 unità che fai? Non le ha 50 unità Io sono Groot Impossibile che siamo arrivati Manca ancora tipo mezzo pianeta Lady Elbender supererebbe la giungla in sette passi Ahah, di sicuro Oppure solcherebbe le montagne in volo Oh, volante? Possiede creature volanti Drax, hai delle informazioni su Lady Elbender, discutibili Puoi dirlo forte? Più o meno discutibili della tua abilità di pilota, Peter Quill Ti ha fregato Gamora, ti va di farci strada? Si dice che Lady Elbender percepisce quando la tua giungla viene danneggiata Oh, un bombardiere Nova È dalla guerra che non ne vedevo Ci volevano una decina di navi per abbatterne uno Una decina di navi o un agente Chitauri? Lo prendo come un complimento Nessun segno della fortezza? No, se vuoi che sia la strada giusta Sì Che problema c'è ora? No Pensavo solo che è meglio se va qualcun altro per primo Io e Groot, siamo la mercanzia Solo uno di voi è la mercanzia Piano A e piano B Ok? Non pensate che sia ora di muoversi? Groot dice no Andrà bene, non guardate in bas Vai, su No, vai tu Qualcuno vada Non sarebbe compito del capo fare strada? Non sei pericoloso Perché devo coprirvi le spalle? Certo Visto? È facile, sicurissimo Ok Non pensarci neanche a spingermi, assassina Ci sono tanti modi migliori per uccidere Piano, piano Che razzo tu vuoi? Non sarebbe più ruolo Groot dice che c'è qualcosa laggiù Mostro Non importa Certo che importa È troppo instabile Avanzi Spazio Vedi! 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 Bella presa Non c'è di che Non abituarti Viterquale C'è qualcun altro qui Trovato Ragazzi Sapete cos'è quello? Un mostro A noi non ci mancia Guardali, camora Resta Sapete che c'è qualcosa che ci metto Daci dentro Fuori, con onore Non voglio farti mangiare Ma un po' spaventare Saremo noi a far chiestare La mancia Sembra mole Colpita in ventre Sembra soffice e vulnerabile Non credo che Ommettisca i comandi Ok Ok I numeri sono dalla nostra Non sei conti tutti qua in destra Cara mia La sua corazza ignata Si dimostra Abitua da superare Dobbiamo ribazzarlo E scoprire cosa ci nasconde Il prossimo giro è Drio Rude, fermali E adesso Per questo a fare C'è per qualcosa di grosso E ora Adesso Bavida creatura Concludi la battaglia Ah Moncherino sta scappando Senza la coda Tra le zampe Io deco di inseguirlo E parlo fuori Ti hanno mai detto Che fai paura? Sì Vedo una via d'uscita lassù Che è proprio quello Che ci serve ora E ci aiuterà a vedere Dove stiamo andando È deciso Scaliamo questo Marchigegno abbattuto Sì, ok E come facciamo? Bella domanda Che fai paura? forse dovrei essere io quello che porta il visore magico non crederei a una tua parola siamo d'accordo preferirei anch'io l'incompetenza di Peter Quilla alle bugie del ratto forse la tua maschera magica può esimerci da questa infiposa ricerca lascetti di chiamarla così? a quanto pare c'è uno di quei vecchi banchi da lavoro qua dietro non mi stupisce forse stavano cercando di riparare quel bombardiere ok rocket vediamo se questo coso funziona ancora sì va bene basta che non ci attacchi un qualche mostro è tutto tuo grazie a tutti grazie a tutti allora dove siamo? mi stiamo aspettando per salire sul marchigegno ah giusto forse questa lady band è un'eroina di guerra e può liberarci da Inova basta tagliare un po' di cavi per trasformare l'ala in un ponte improvvisato ci serve qualcosa per raggiungere quei cavi Peter vedi niente di utile sul relitto? di questo passo ora che arriviamo a El Bender sarà passata la passione per il collezionismo il reattore sembra sul punto di cadere ed è pieno di melma se vuoi abbattere quell'affare ti servirà una visuale migliore ha ragione la tua mira è perdita la mia mira non è terribile e perché il tuo bersaglio non cade? serve una visuale migliore a quanto pare devo dirlo da una perversa soddisfazione vedere questo affare mezzo sepolto hai avuto incontri con Inova Corte però non funzionerà Will la melma è tutta concentrata lì in alto stai sbagliando traiettoria ok quindi come sistemo la traiettoria? andando più in alto direi arrampicata non è la tua specialità assassina certo dimmi se non dov'è arrampicarmi Gamora tu sei esperta di navi quel reattore allentato lì in alto beh è coperto di funghi dovremmo riuscire a farlo cadere ma non da qui inoltre non ho armi da fuoco Rocket mi serve un parere come raggiungiamo quel reattore attaccato a lava? sono alto alla metà di te Will cosa dovrei fare? Root, ciccio, tu sei elastico riesci ad allungarti fino allassù e a staccare quell'unità io sono Root wow modera il razzo di linguaggio bastava un semplice no ok Drax salta più che puoi e cerca di afferrare il reattore forse cadrà con il tuo beso se i venti di Lady Elbender non hanno potuto liberarlo la mia forza non risolverà un bel niente è talmente arrugginito che quasi non si riesce a vedere il blu la guerra è finita da un po' quando crollerà quell'ala si da poter lasciare questa fossa ne fatta a quanto pare stiamo aspettando che ci pensi madre natura visto? ecco che succede quando si cambiano i piani al volo che le ali servono a volare al volo cos'è questo suono? i cavi dell'ala ci stanno chiamando? vogliono conoscere la tua spada Gamora sul serio? posso tagliare i cavi ma devo raggiungerli rocket sai a cosa stavo pensando? potrei sempre tirare una bomba contro il montante no! no! che problemi hai? pensavo che Gamora potrebbe tagliare i cavi io sono proprio Drax puoi aiutare Gamora a raggiungere quei cavi? non credo che l'ammazzanova mi permetterebbe di lanciarla quasi mi piaceva di più sgualdrina Gamora no! non lo farò secondo voi ci sono dei cadaveri tutti mummificati lì dentro io sono brutto se anche ci fossero non sarebbero mummificati c'è troppa umidità eh, sentito bello magari sono davvero fertilizzante Gamora quanto in alto riesci ad arrampicarti? scopriamolo! ti stai godendo il momento? assassina? che momento? visitare la tomba dei tuoi nemici i Nova Torx non erano miei nemici Drax ma di mio padre strano che non l'abbiano smantellata in cerca di tardi il pianeta non è adatto agli spazzini non ha torto è già difficile atterrarci figuriamoci se tacciarlo in cerca di rottami da qui vedo il reattore bloccato un paio di colpi dovrebbero bastare pure che vogliamo tornare in cima ottimo quel coso è il nostro biglietto per salire no, non è un coso né un biglietto è un reattore Drax, spostare quell'affare non è un problema, vero? no, sono eccezionalmente muscoloso proprio come Lady Elbender abbiamo capito prima una nave della resistenza e ora una dei Nova Corpse due su tre nella tombola della guerra galattica forse fungeva da base per gli assalti contro i chitauri oppure era una fortezza delle blatte ed è da qui che hanno abbattuto quelle navi lì va benissimo questa unità è estremamente pesante pensavo fossi eccezionalmente muscoloso sì ecco perché posso sopportarne il peso e adesso, Peter Quill? ah, quanti ricordi ah, va bene visto? facile ottimo lavoro di squadra li ho motivati bene cime viscide battute dal vento arriviamo sai la nostra attenzione alla sicurezza è ammirevole una cosa è certa senza l'assassina non avremmo mai completato l'operazione Drax hai lodato Gamora? sto solo dando credito a chi lo merita era anche ora sappiamo tutti che Gamora è super fica e super utile eccola la fortezza di Lady Alband adesso è decisamente più grande ha non è più grande siamo noi più vicini grazie Drax ehi non sapevo che Seknar fosse una zona calda durante la guerra possiamo scendere da questa parte Quill, devi vedere questa nave ammirate l'era di Lady Alband persino i Gitauri la temevano una cosa rara all'epoca ok proviamoci che schifo ragazzi mi conviene aspettare prima di scendere ma perché il raggio è così profondo? incastrati ragazzi dici? figlio di uno shmug prendi la spada non va bene donna trova una corda si, in fretta e dove trovo una corda? non lo so a fondo nella merba Quill, fa qualcosa di qualcosa zono 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 Quill Quill che prego che schifo che schifo ragazzi mi conviene aspettare mi conviene aspettare prima di scendere ma perché il raggio è così profondo? incastrati ragazzi dici? figlio di uno shmug prendi la spada non va bene donna trova una corda si, in fretta e dove trovo una corda? non lo so a fondo nella merba Quill fa qualcosa di qualcosa zono 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 Quill Quill ti prego che cosa hai fatto? un sortileggio che... freddo tocca a te qualcuno lo tiri fuori io sono tu ti spieghi che cosa è successo? non lo so i miei blaster non è successo una volta sola quando ero ragazzino non lo faccio apposta tecnologia spartoida pensi di averle viste tutte e poi succedono cose così potresti... lascia perdere le armi Quill voglio capire cosa le fa girare sennò tanto vale dire che è magia ho un sortileggio ragazzi ho collegamenti genetico-neurali abbinati a qualche nanolega trasmutante ho un sortileggio ecco si ricomincia per dieci 거든요 c'è un disperso ciò la fa poi Felici per te le tue armi, Quill. Non rubi gli esplosivi, mia zara! L'importante è che non ti scoppino in pancia! Dietro di te! Rappare la carne dalle ossa non ha alcun effetto! Questo lo senti? Esattamente quello di cui avevamo bisogno! L'altra specie di questi esseri! Scusiamo meglio, eh, giusto? Ok, queste armi spaccano il culo! Eh, mi tengo la mia arma, grazie! Abbiamo trovato l'origine degli esseri terapidosi? L'odore è d'offenso! La solda è in tratta roda! Deve essere così piccolo! Arriva! Ammirano la nostra vittoria, Lady Alvander! Non cazzo la vittoria! Manca poco! Ma prima dobbiamo arrivare lassù! Direi che possiamo scavalcarlo! Ding, ding, ding! Dategli una stellina d'oro! Dobbiamo capire come renderlo scalabile! Le stelle sono fatte di idrogeno, non oro! Se no sono planetoi! E dai, Quill! Fammi esaminare quelle armi! Magari possiamo far saltare fuori qualcosa dal lato del relitto! Quasi a secco! Forse possiamo tirarle fuori a forza! Ci farebbero da scala! Vale la pena provarci! Will! Vedi se ha dei cannoni ancora utilizzabili! Se non vedrò mai più una nave simile, sarà sempre troppo presto! Su questo posso concordare! Drax, riesci a tirare fuori quel cannone? Ci provo! Più ostinato del previsto! Impossibile! Non vuole stare fermo! Non potevi tenerlo per un altro po'? Prova tu a tenerlo per un altro po'! Drax, puoi riprovarci? Perché? Non obbedisce! Adesso lo sistemo! Cidati! Dobbiamo trovare un modo per bloccarlo! Posso ottenerlo per sempre! E' attaccato a una cosa rimbalzosa! Sicuro sia il termine giusto? Sì! No, da fuori non posso fare un pilfero! Tocca a Quill, mi sa! Drax, riesci a estrarre il cannone in alto? Impossibile! Troppo lontano da terra! Gamora, puoi raggiungere il cannone? Sì, ma non riuscirò a tirarlo fuori se è quello che vuoi! Per cui? Forse le tue armi magiche poter... Groot, pensi di poter usare i tuoi rami per tirar fuori quel cannone? Io sono Groot! Dice che non sono forti abbastanza da spostare quell'affare! Rocket, idee su come estrarre quello in alto? Non da dove sono, no! Rocket, puoi estendere quel cannone? Con la mia forza animalesca? Ehi, Gamora, puoi tirare fuori quel cannone? Se hai un paio di rotazioni di tempo... Estrarro io il cannone! Lì c'è un buchino! Potremmo riuscire ad allentare qualcosa dall'interno! Arranghiti! Partirei! Demoriaca! A posto! Notevole! Ora dobbiamo estrarre il prossimo! Gamora, riesci a infilarti dentro quel buco? Ho le spalle larghe! Se solo ci fosse qualcuno di piccolo... Rocket, dovresti infilarti dentro quel buchetto per cercare di allentare il cannone dall'interno! Pronto! Nave Chitauri! Piena di trappole e meccanismi mortali! Pensavo ti piacessero un sacco! Ah, è vero, mi piacciono! E ho sempre sognato di vedere una platta nave dall'interno! Ok! Ah, cos'è questa puzza? Quello... Oh, razzo! Ah! Tutto a posto, Rocket! Trovato l'equipaggio! Pare che anche ai vermi facciano schifo i Chitauri morti! Rocket! Tranquillo! Fammi deviare un po' dell'energia rimasta verso il cannone e... Niente! Sai che c'è? Al diavolo! La faccio saltare! Cosa... Aspetta! Pensa a tutte le trappole! Guarda che roba! Devi aver acceso tutto quanto! Rocket, stai bene? Sì! Sono asciutto! Gamora riesce a creare un varco in quel disastro? Asserto! Sì, Peter Quill! Verso il palazzo della Gigantessa! Oh! Ora è una Gigantessa? Pare che Lady Elvender sia alta 50 teste! Non vuol dire molto, dipende dalla testa! Mai visto un rigeliano? Sì! Hanno delle teste ridicole! Non sembra un vostro felice! Oh no! Un altro enorme tentacolo! Attento! Potrebbe fingersi molto! Ehi, non sembrano un sacco di piccoli Rocket che si riparano dalla pioggia! Sei un tipo a posto, Brut! Io non sono qui! Ehi, visto che siamo qui, tu conosci Rocket da molto più tempo di me! Io sono Grut! Sai che può essere... imprevedibile! Persino lunatico! Esuberante! Io sono Grut! Mi chiedo solo... Pensi che riuscirà a fare il suo dovere? Io sono Grut! Mi è sembrato un sì! Bene, grazie bello! Che stai facendo, dannaccia? Perché mi togli? Avevi della gelatina sui pantaloni! Però a me non hai mai pulito! Io quella belliccia non la tocco! Ma... Sono pulito! Usiamo lo stesso shampoo! Io mi lavo con una saponetta! Aspetta, allora... Di chi è lo shampoo? Oh no! Dove eravate finiti? Ehm... Esame del personale! E l'hai passato? È un'informazione riservata! Chissà se c'è un uniforme per cacciatori di mostri! C'è un'associazione? O anche solo un mostine come un? Anderebbero con le zagne... ...e non viste le loro prede! Beh, di quelle faccio a meno! Ma i teschi mi piacciono! I loro abiti sarebbero pieni di buchi lasciati dalle creature che cacciano! La fortezza è di qua, Peter! Lo so! Sto solo esplorando un po'! Non abbiamo esplorato abbastanza! Io credo che esplorare sia un codice! Vuol dire che ha sbagliato strada ma non lo vuole ammettere! In tal caso è il più grande esploratore di sempre! Per molti versi questo pianeta mi ricorda di me! Brutto, eh! Gadad non è un pianeta perdente! Lima Severo e i predatori letali costringono i gadatiani a lottare per sovrapportare! Per questo rispetti tanto Lady Elbender! È sopravvissuta in un luogo simile! E l'ha conquistato! Sì, sto solo trasformando l'acqua in ghiaccio! Buone! Rocket, abbiamo un kit per i geloni sulla Milano! Mi sa che da qui si vede casa mia! Cosa ci fai là sopra? Roba da ricognitore! Ricognizione! Direi che proseguiamo nella direzione esatta della fortenza, sì? Ottimo lavoro, Peter! In tempo credevo che il ratto avesse l'arma da fuoco più notevole del quale! Ho cambiato idea! Gli spara ghiaccioli di qui! Sono versatili! Forse! Ma il mio adorato scutafuoco ha 17.000 configurazioni mortali diverse! Ah, per esempio? Per citarne alcune c'è uccidi, uccidi di tanto, di fretta, di largo, di lungo, di gruppo... Oh, uccidi male! Anche uccidi bene, ma non l'ho ancora provata quella! Eh dai, perché il ponte è sempre dalla parte sbagliata? Stavolta insisto per scagliare l'abominio! E io invece insisto per spingere bicipiti giù per il burrone! A che fine? La tua! Tu sei morto! Marta! Tante volte devo ripeterlo, nessuno lancia rocket! Ridicolo, ci sono ostacoli per non urtare i sentimenti della bestia, lui ha mai reciprocato! Mettilo giù! Che ti serva di lezione, l'auditore? Ah, te la do io una cacchio di lezione! Finitela, ragazzi! Dovremmo essere dei professionisti, siamo meglio di così! Io no! Arrestarci per una misera struttura chitauri è poco professionale! Allora smettetela di litigare, troveremo un'altra strada! Ragazzi, ho trovato qualcosa! È profondo! Sembra promettente! Avremo poco spazio di manovra in caso di attacco! Non staremo qui a lungo! Vedete una via d'uscita? Se dobbiamo, possiamo crearla! Oh, la sentite anche voi? C'è una gran puzza qui! Sì, una frore putrida! Chissà da dove arriva! Oh, ma che razzo! Oh, non parlo! Non respiro neanche! Io sono crudo! Credo che la puzza arrivi da quel muro! Deve esserci qualcosa lì dietro! Sì! C'è decisamente qualcosa di schifoso! Rax, puoi sfondare quel muro puzzolente! Potrei pentirmene! È spiacevolmente aromatico! Prego! Mi ricordo quando Grut ha vomitato! Sto contraendo ogni mio orifizio! Ok, questo è strano! Ehi là! C'è nessuno? Ok, troppe emozioni! Tutti insieme! Perché Lady Elbender l'ha messo in gabbia? Ah, perché è fastidiosissimo? Forse è cibo! E sarebbe cibo? Sì, cibo per mostri! Chissà che sapore ha! Peter! Perché proprio quel sapore? Approfittiamone! Sai, dobbiamo fare qualcosa per il tuo senso del fosco! Della gabbia! Capita? Ci serve la gabbia! Sì, sì! Se entriamo nella fortezza con... con il mostro che cammina al nostro fianco ci deritono senza pietà! La bocca! Perché sussurri? Grut! Non accarezzare il pentacoloso! Gamora pensa che questa storia del mostro funzioni meglio con una gabbia! L'unico problema è che dentro c'è un mostro incavolato! Liberate la bestia! La elimino io! Perché l'ultima volta è finita così bene! Ci servirebbe un piano migliore! Sì! Uno che garantisca... l'incolumità del cavolo, magari! Raffi! Moncain ha tornato! A di fuori, Max! Come mi dirò il final! Certo, cazzo con noi! Cerca di staccarsi! Sì, ora non lo prenda, mostro! Impacchentali! Una sovrappresa con un scattatiano sbagliato! Dina qualcosa, Drax! La pasta sembra morbida, però! Sviter! Inspirano a iniziare una collezione di come! Continua pure ad aspettarli! Ehi! Secondo voi gli stiamo facendo qualcosa! E ora affettali! Stato un taglio! Il mio immenso potere sprecato! Drax, distruggeli! I tuoi sforzi sono maghi! E i mobiliti vedi che vanno più legge? Sembra che la tua schiena respinta tutti i colpi! La pasta sembra morbida, però! Ah! Sono coperto di droga di polsi! Devi schivare le putella, Bello! Ti faccio a pazzi! Questo qui mangia i proiettili! Lasci! No! No! Troca! Troca! Sembra che i miei colpi si fattano il soledico! Cercherò di esporne le parti sensibili! Impossibile penetrare le epidermide della bestia! Di certo un colpo il bacio lo capirebbe! Lasciami e distrutturisci! No, non sono, cagliato! Vedi i suoi tentacoli, non radici! Ancora? Fatevi sotto, mostri! Tu vieni con me. Meglio muoversi! Oh, la pioggia, le gelatine, pure i tunnel puzzolenti! E adesso tutti questi mostri! Io lo odio questo pianeta! Tu odi tutto, Rocket! Vero, ma i tunnel puzzolenti in particolare! Non sopporto il prurito! Ehi, siamo una squadra! Se proprio dobbiamo puzzare, dobbiamo puzzare tutti insieme! Molto eloquente, Peter Quill! Puzzerò con gioia insieme a te! Sì, gran bel discorso! Ah! A Seknarf non si usano le strade! Gruto dice di controllare da questa parte! E che facciamo se si mette male con Lady Hel? Combattiamo la Regina dei Mostri? Sarebbe un'avversaria in vero formidabile! Lady Elbender non è nostra nemica. Se va tutto bene, sarà la nostra socia da fare. E se si mette male? Vuol dire che avremmo dovuto vendere Groot. Groot, fammi un ponte. La fortezza è subito dall'altra parte di quel diruto. Pesa quel coso, Quill. Credo sia di qua, ma non vedo un modo facile per arrivare lassù. Surgelato. Wow! Posso fare anch'io i ghiaccioli? No. Che razza di antipatico! Visto che ci toccherà trattare con la regina dei mostri, quanto chiederemo per il nostro? 395 milioni di unità. Due più, due meno. Una per ogni prezioso follicolo su questo bel corbino. Mi hai contato. Davvero un zardo. Ehi, almeno ho qualcosa da contare. Allora, quando è che avremo anche noi degli stivali razzo? Ci vogliono anni di addestramento specifico per utilizzare. Hai fatto anni di lezioni di volo? No. Quello a cui li ho presi, sì, però. Mi hai rubato? Era morto. Volato dritto in una turbina. Io sono Groot. Wow! È già tra le mie dieci fortezze preferite. Ma che razzo! Hai detto che i mostri della zona di quarantena erano rari. E ne ha già una mandria intera. Tempo sprecato, quindi. Siamo quasi morti per niente. E ci hanno arrestati. Bello, vero? Moderatamente spassoso. Bene. Quindi c'è una bomba, Orology. Ogni passo falso è stato un passo nella direzione giusta. Completare il piano migliore della storia. Puoi ripetere? E se avessimo portato qui uno di quei brutti musi solo per scoprire che Lady Hela ha la collezione completa? Sarebbe stato un pacco. Esatto. Se ci fossimo riusciti. E se i Nova Corps ci avessero fermati mentre ce lo portavamo dietro? Avrebbero confiscato la bestia. Visto. Quindi va tutto bene. Certo, il modo sconnesso è caotico, ma il piano rimane.